incominciai in bra il 25 marzo 1860 essendo il mio scopo la divulgazione di tutte quelle notizie anche le più semplici per l'uomo istruito ma che trovo non abbastanza diffuse tra la massa dei miei compatrioti chiederò perdono ai primi se li annoio e pregherò i secondi di voler gradire il mio impegno che come ben vedono costa fatica e la mia ricompensa sarà la loro accettazione